Vai, facciamone un'altra ruota senza stoppare. Allora, siamo qui, pezza Cavour, a girare lo spot per la banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci, testimonial, la compagnia Maioro, Fraincius e il suo creatore e il regista l'amberto Giannini. Ora silenzio, ora silenzio e concentrazione, l'ultimo pezzo diamo tutto ora, dai. Il fatto che si faccia lo spot e che valorizza una realtà del territorio e noi ci riteniamo anche noi una realtà di questo territorio ha creato questa sinergia. La sua nuova fantastica assistente è Giuditta Novelli che oggi farà anche la ciocchista solo per noi. E poi abbiamo anche Alessio Tanchic. Un'altra, un'altra al volo. Sììììì! Vai. Neffa, basta dai. Poi qua, qua. E' finita! Bravi! Grazie!